ciao e benvenuti di nuovo sul mio canale vita di tutti i giorni allora oggi un po in ritardo perché mi è arrivato in ritardo il pacchetto farò l'unboxing dell'ultimo ordine do terra che ho fatto a novembre era quasi la fine di novembre quindi ci ha messo un pochettino di giorni perché questi sono giorni un po particolari vedete il mio alberello che bello io sono entrata in pieno spirito natalizio a me piace tantissimo e quindi sono sempre elettrica oltre ai periodi normali quello di natale per me è un periodo frenetico perché ho in mente tante cose e mi viene voglia di creare di fare insomma allora bando alle ciance eccoci qui con il nostro pacchettino terra io solo l'ho solo aperto con le forbici ma adesso andiamo sposto di nuovo di qui andiamo a vedere proprio cosa c'è all'interno allora vabbè la fattura il solito de plian comunque opuscolo con gli oli essenziali più importanti io di solito questi qui li tengo sempre da parte perché io li uso li do magari alle future clienti a chi non è ancora comunque cliente di modo che se lo possano guardare li regalo nei magari nei campioncini che do di oli essenziali da provare allora poi la carta mettiamo qui quanta roba allora allora cominciamo da questo che era in offerta adesso non lo è più la saponetta al con la mamma mia scusate con la miscela citrus bliss quindi rinvigorente queste saponette sono belle grosse come potete vedere adesso magari ve l'apro è bella bella grossa bella corposa bella spessa infatti è da se non sbaglio 80 grammi magari mi sbaglio sì mi sembra di sì e comunque questi qui non sono queste saponette non sono sono per le mani ma sono anche per il viso e per tutto il corpo infatti molte delle mie clienti le prendono quando sono anche in offerta ne prendono un po di più perché si fanno proprio la doccia anche con con queste saponette e questa qui essendo rinvigorente molte persone che devono andare magari a lavorare di sera di notte si fanno la doccia con questa la sera altrimenti scelgono di chi è abituato a farsi la doccia al mattino scelgono di usarla il mattino proprio perché risveglia un po tutti i sensi perché questa miscela e quella agrumata quindi un'esplosione di agrumi che danno proprio una svegliata e una sferzata di energia allora questa qui poi tra parentesi prima che mi dimentico sotto in descrizione vi metto come al solito il mio contatto email per chiedermi informazioni di qualsiasi tipo oppure se volete scrivetemi sotto nei commenti sempre in descrizione vi lascio il mio shop online do terra e in più per chi vuole scaricarsi le mie tre guide gratuite che ci sono sempre sono sempre valide sugli oli essenziali logicamente perché di quello si sta parlando in più alla fine del video seguitelo quindi fino alla fine vi metterò la stampa la foto della mia fattura dove vi faccio vedere per filo e per segno quello che è a 0 euro quindi i miei punti accumulati e usati per avere prodotti e oli essenziali completamente in omaggio io sono sempre stata chiara fin dall'inizio a me non piace raccontare storie e quindi voglio proprio far vedere le cose così come sono allora continuiamo quindi allora questo qui ah sì allora una scatola logicamente sull'arancione bruciato con un decoro di fiori guardate che carino e vi faccio vedere questa qui dovrebbe essere la crema se non sbaglio adesso mi vado a riprendere anche la anch'io la fattura e me la metto davanti dal cellulare allora cestino perché l'avevo neanche a farlo apposta cestinata eccola qua è questa sì ok allora questo qui è un burro corpo ai semi di carota fatta così in questa bella confezione barattolone anche abbastanza duro da aprire vabbè adesso è completamente chiusa ermeticamente e quindi non andiamo a rovinarla ad aprirla prima del dovuto comunque questa qui era combinata con i calzini calvi invernali guardate che belli io d'inverno non sopravvivo senza calzettoni di lana sopra calze perché ho sempre i piedi completamente gelati e quindi mi sono presa questi bellissimi calzini belli spessi che oltretutto sono anche antiscivolo come i bambini piccoli no? però sono molto molto carini e nell'antiscivolo hanno la O non so se lo vedete la O di do terra la O con la righetta sopra e vabbè così sono molto molto carini e hanno il risvoltino belli belli morbidosi e belli spessi come potete vedere comunque si vede e quindi questa è una combo proprio forse ce n'è ancora se non sbaglio se non è andata esaurita e ce n'è ancora di questo mese è ancora in offerta allora poi andiamo avanti ho voluto prendere ho voluto provare questo qui da viaggio anche se io magari lo uso anche a casa il mini collutorio con la miscela on guard all'interno per la disinfezione del cavo orale e detto sinceramente il collutorio l'ho sempre fatto io nel senso con l'acqua fatta bollire e con dentro poi le gocce di miscela proprio on guard io prendevo il boccettino ci rovesciavo dentro un po' di gocce agitavo e lo usavo come collutorio poi siccome c'è già fatto e volevo provare il formato piccolino anche da portarmi poi in giro l'ho preso ed era oltretutto uno di quei prodotti in offerta e quindi non me lo sono lasciato scappare e ho preso il formato piccolino poi qui cosa ho preso? ah sì sì forse sì mi ricordo ecco qua ho preso allora la miscela past tense che è roll on adesso vi faccio vedere se riesco a togliere lo scotch ok questo è un formato da 10 ml con il roll on classico e questo è il... non posso stare senza anche per quello che l'ho preso in anticipo perché per un certo periodo questa miscela verrà tolta e verrà reintegrata con una nuova e riformulata il nuovo anno quindi e non si sa quando ancora del nuovo anno quindi io non volevo rimanere poi senza perché questa è una manna dal cielo per il mal di testa e quindi ne ho voluto prendere un boccettino in più da tenermi a casa di scorta che non si sa mai anche qui. e poi per finire ho preso io intanto controllo anche la fattura ah sì ho preso la confezione ecco 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 la confezione che dovrà essere invece manca un pezzettino dell'ordine ahiaiaiai vabbè si vede che si sono confusi con questo perché io ho ordinato anche le classiche perline con la miscela dentro un guard che prendo di solito e me lo vedete infatti mi vedete ordinarlo ogni volta perché anche di queste non posso rimanere senza perché io le prendo tutti i giorni proprio giornalmente estate inverno autunno sempre e si vede che si sono sbagliati perché il pacco era il pacchetto di tre balsami labbra e invece me ne sono arrivati soltanto due allora uno è original quindi un balsamo labbra normalissimo e l'altro invece è con la profumazione tropical io ricordo che tutti questi prodotti che io faccio vedere nei miei unboxing do terra sono fatti con gli oli essenziali do terra non sono fatti con altri ingredienti cioè do terra è conosciuta come azienda mondiale a livello mondiale di oli essenziali e quindi di conseguenza tutti i loro prodotti sono fatti con oli essenziali quindi anche i balsami labbra mi dispiace di appunto si vede o che era esaurito il terzo tipo perché appunto c'è uno li può comprare sia singolarmente che in pacchetti proprio completi da tre pezzi tre diversi logicamente si vede o che l'altro e il terzo è andato esaurito o che si sono sbagliati con la confezione di perline on guard vabbè comunque fa niente e allora in poche parole io poi come ho detto ve lo metto poi al fondo del video allora praticamente ho avuto gratis le perline on guard con l'accumulo dei punti poi ho avuto a zero euro quindi sempre gratis anche il colluttorio on guard mini e poi ho avuto ancora gratis sì ho avuto ancora gratis appunto i balsami labbra e ho avuto gratis questo il past tense la miscela per il mal di testa e direi che ho fatto un bel carico lo scorso mese perché appunto mi sono arrivati poco tempo fa quindi vi metto tutto al fondo tutto sotto in descrizione scrivetemi nei commenti o in privato se non volete scrivere insomma qua con gli altri e mettete un bel mi piace seguitemi sempre comunque iscrivetevi al mio canale mi raccomando e un bacione e i prossimi giorni magari qualcosa uscirà ancora fuori prima di natale ok ciao